Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via nazionale 127 Fornovo, Taro, telefono 0525 2590. Moranoleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo, Taro, per informazioni www.moranoleggi.com Quindi dicevi com'è che ti è nata l'idea? Allora, l'idea mi è nata un mese e mezzo fa. La prima linea guida, diciamo, dell'idea era proprio quella di fare un qualcosa con gli amici. Io facendo serate karaoke mi mancava proprio quella cosa qui di avere il contatto con gli amici, con la gente che viene alla mi serata. Per cui la prima cosa è stato proprio il voler fare un qualcosa insieme. Dopodiché appunto ho pensato a questa canzone proprio perché è una canzone domani degli artisti uniti per l'Abruzzo, è una canzone che è nata proprio per l'emergenza che c'è stata in Abruzzo del terremoto anni fa ed era proprio una canzone che si prestava bene perché anche quella era cantata da più artisti, cioè ogni artista aveva fatto un pezzo di canzone. Per cui ho pensato alla canzone, ho reclutato tra virgoletti i primi dieci ragazzi che conosco prendendone nei vari comuni limitrofi al mio e gli ho proposto l'idea, chiaramente è stata proprio recepita e accettata subito con entusiasmo, dopodiché abbiamo detto va bene, adesso ognuno di noi ne trova altri quattro, il numero di persone dovrebbe essere 50 circa. Ah, quindi 50 persone hanno collaborato a fare… Esatto, 50 persone. Per cui eravamo in dieci, abbiamo detto ne troviamo oltre a noi dieci, ne troviamo quattro a testa e arriviamo a 50. Di dove sono tutti i comuni della Valceno? Di fuori? No, Valceno e Valtaro, nel senso che c'è Vassi, c'è Bardi, adesso ho poveri di scordarne qualcuno, comunque Vassi, Bardi, Varano e poi c'è Solignano, Ghiare dall'altra parte, Compiano, Compiano, Vedonia, insomma ci sono un po' della Valceno e un po' della Valtaro. L'impostazione che arrivi in mente fin da subito come grafica o… Allora no, come grafica no, come grafica lì ha fatto un lavorone Luca Biolzi, che è un mio amico che è appassionato, molto appassionato di fare il tecnico del suono, il tecnico video, per cui quello l'ha curato per la maggior parte lui, cioè insieme abbiamo recuperato delle foto e dei video delle nostre valli cercando di inserirle dentro al video proprio perché fosse un qualcosa legato al nostro territorio, al di là della canzone. E dopo di che, all'inizio, dopo aver pensato comunque di fare un qualcosa insieme agli amici, chiaramente mi è venuto subito anche l'idea comunque di legarlo all'emergenza attuale, cioè al Covid. E qua è stato veramente bello perché è stato il gruppo, cioè una volta arrivate 50, poi sono stati ognuno di loro che ha detto cambiamo questa frase, aggiungiamo la parola, ci mettiamo un qualcosa che si leghi al Covid, un qualcosa che si leghi al territorio. Allora, addirittura nella canzone originale c'era un pezzo in dialetto, credo forse, abruzzese. Noi abbiamo ripreso quel pezzo in dialetto abruzzese e abbiamo fatto una frase in dialetto nostro, diciamo, della Valcena. Val Cienese. E poi è nato, sono nate tutte stegmodifiche, ma da parte di tutti. Cioè alla fine io quello che ho fatto è stato reclutare la gente all'inizio, poi secondo me è venuto, pian piano è venuto un qualcosa da tutti. Luca Biolzi è? Di dov'è? Luca Biolzi è di Momrola, di Valmozzola, abita giù a Collè che però è originario di Momrola. Quante persone l'hanno già visualizzato adesso? Allora, siamo quasi a 10.000 su Facebook. Quanto l'abbiamo messo fuori? Sì, sabato pomeriggio, sabato sera, diciamo, intorno alle 5-6 del pomeriggio. Infatti anche lì è stata veramente una sorpresa perché noi pensavamo al faremo un migliaio di visualizzazioni, 1.500, qualcosa del genere, invece è stato proprio un boom. Ti tieni conto che solo la pagina Valceno ha più di 8.000 follower, per cui già il fatto che ti abbia messo l'oro sulla Giovanna Giuliana ha buttato su bene. Infatti, sì sì, ma ti dico, poi è stato un... Cioè il video, onestamente, adesso senza falsa molestia, cioè il video è venuto bene, l'idea c'è, ed è piaciuta. Tanta gente, oltre a vederlo, a farci i complimenti, perché poi mi sono arrivati, ti dico, ho fatto sabato e domenica che avevo il cellulare che mi suonava ogni 3 secondi, per messaggi, chat, mail, via tutto quanto. La cosa è piaciuta, per cui oltre a farci i complimenti, li hanno anche ricondivise nelle loro pagine, per cui chiaramente il numero è aumentato esponenzialmente. E tra i commenti che hai avuto? Ma allora, guarda, sì, soprattutto perché è arrivato a... Adesso scusami, mi commuovo un po' sempre quando lo dico. Cioè è arrivato a chi doveva arrivare, nel senso che ci hanno contattato infermieri e dottori, perché amici, diciamo, di noi o qualcuno che ha visto il video, ringrappiandoci, dicendoci che ci creavano felicissimi di questa cosa. Scusami, magari questo testo lo rifacciamo. No, no, con la commozione va meglio. Ringraziandoci veramente per quello che abbiamo fatto, che è una piccola cosa, però ci sono tra lo meno sentiti ringraziati tutti. Sono arrivati a Fornovo, all'USL di Fornovo, sono arrivati all'ospedale di Parma, sono arrivati all'ospedale di Fidenza. Cioè abbiamo avuto, la cosa più bella è stata quella. Oltre chiaramente anche a persone normali, il commento veramente, la cosa più frequente era proprio, mi è scesa la lacrima, mi è venuto il magone, proprio per capire come si è sentito, come messaggio. Esatto, esatto. E poi oltre a quello anche commenti grazie per aver comunque valorizzato il territorio, nel senso che ci sono comunque immagini, video, dei vari monti, dei vari paesaggi, dei vari fiumi, del Ceno, del Tare, vi dicendo. Per cui sì, è piaciuto per quello. Ma la cosa migliore è sicuramente stato il discorso degli infermieri, al quale sostanzialmente il video è dedicato, perché oltre ci sono questi tre temi, il territorio, la sanità tra quegli infermieri, i dottori che hanno lavorato in questo periodo e l'amicizia poi. E ci sono anche frasi durante il video e anche delle frasi alla fine del video come ringraziamento, oltre chiaramente all'elenco di tutti i partecipanti, ci sono anche delle frasi proprio che ho scritto per, sì, che erano alla mia dedica, alla fine era l'idea iniziale che ho avuto ed è quello che ha fatto nascere tutta la canzone. Però ripeto, molte cose sono nate proprio dal gruppo, mi è piaciuta anche questa cosa quattro. Quindi tu hai impostato il testo di base e poi pian piano ognuno ha messo un po' la sua aggiunta per dire che crede meglio. Esatto, esatto. Io ho preso pari pari il testo che aveva la canzone originale e gli altri chi mi ha detto, allora lì lo cambiamo per via del Covid, lì lo cambiamo per via Valceno e Valtaro. Qui mettiamo il nostro pezzo in dialetto, così sostituiamo il dialetto abruzzese con quello della Valceno e Valtaro. Anche il nome, il nome nostro, cioè Gente dell'Appennino, alla fine ci siamo ribattizzati Gente dell'Appennino e c'è un chiaro riferimento anche nella scoffa della canzone a noi Gente dell'Appennino che poi abbiamo voluto portare la voce di tutto l'Appennino perché noi siamo 50, ma alla fine la gente dell'Appennino è tutta la gente che abita. E poi appena che va oltre anche il Parmese, insomma. Sì, 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 assolutamente, assolutamente sì. E Appennino è anche l'Abruzzo. Sì, esatto, infatti ci sono un sacco di similitudini tra le due cose e però mi è proprio piaciuta questa cosa qua, che ogni elemento del gruppo alla fine non ha fatto solo cantato la sua canzone, ma ha dato idee come fare meglio, come cambiare, come rifare, è stato bello. E poi appunto sì, alla fine ognuno ha registrato in un weekend, nel sabato e la domenica che eravamo liberi tutti, ognuno ha registrato la sua parte, io ho deciso che parte fare ad ognuno e poi ognuno ha registrato il suo video, i suoi 5-6 secondi di canzone, oltre al finale, se poi guardate il video, il finale c'è proprio dove... Mi sono già commassa anch'io Luca, non ti preoccupare. E per cui ognuno ha registrato, chi in casa, chi sul balcone, chi fuori di casa, i più fortunati che avevano la casa vicino al fiume, vicino al ceno, sono riusciti a fare questo video in arriva al fiume. Però chiaramente tutti nel loro piccolo, perché non si poteva uscire. Era in piena emergenza, per cui dovevamo per forza stare in casa, vicino al ceno. E' stato anche un modo per passare il tempo, insomma. Sì, sì, no, assolutamente. Poi ti dico, in questo mese e mezzo abbiamo un gruppo WhatsApp, dove ci siamo tutti, ed è stato un continuo messaggi. Poi chiaramente il lavoro del montaggio è stato quello più lungo, perché effettivamente 50 video, mettere uno dopo l'altro sulla musica, cioè Diolzi ha fatto veramente un lavorone. Per cui però i ragazzi non stavano più nella pelle, per cui continuavano a scrivere, ci siamo, quanto manca, ce la facciamo, finché siamo riusciti questo weekend a finire tutto e a metterlo fuori. Ma quindi voi, cioè tutti i video, quanto tempo ci ha voluto per il montaggio? Da quando gli avete consegnato tutto? Allora, dunque, ci è voluto tre settimane circa. Quindi, sì, tre settimane. Avete detto, ci hai messo un mese e mezzo, metà per fare... Allora, diciamo che dall'idea, diciamo dall'idea iniziale, io, dunque, ho messo una settimana per, diciamo, trovare la gente. Poi una settimana per, è stato quel discorso di dividere le frasi per ognuno e anche modificare il testo, perché poi arrivavano le idee per cui modificavo il testo. Una settimana per, tra la registrazione del video, l'invio del video a Biolsi, a Luca, per il montaggio e tre settimane CHD, montaggio video. In quelle tre settimane qua, in quelle tre settimane qui, sia io che Biolsi abbiamo contattato dei ragazzi. Uno è nel gruppo, che ci ha fornito delle foto, diciamo, delle foto della Valceno e della Valtaro. Abbiamo contattato un altro ragazzo che non è nel gruppo della canzone, però ci ha aiutato molto volentieri, ci ha dato dei video, delle riprese fatte con il drone sul Monte Barigazzo e nelle zone, diciamo, Limitrufe. E poi, appunto, Luca ha montato tutto, i nostri mini video, diciamo, uniti alla musica, uniti alle immagini e ai video, e alle riprese delle varie zone delle nostre valle. Nonostante l'attuale situazione e il silenzio che ci circonda, facciamo il possibile per vivere e rafforzare le amicizie. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti, passano solo ogni giorno, senza mai tardare, dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e i monti c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consola, sul sentiero infinito di quel crinale. Ma domani, domani, domani lo so. Non so che si passa il confine E di nuovo la vita sembra fatta per te E comincia domani Domani è già qui, domani è già qui Estrango un foglio nell'arisma nascosto Scrivo e non riesco perché è il Covid nascosto Ogni vita che salvi, ogni tubo che poggi Fa pensare a domani, ma pu farlo solo oggi Che la vita, la vita si fa grande così E comincia domani Tra le nuvole e i monti si può fare e rifare Con un po' di fortuna si può dimenticare Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà? E mi sogno in fronte dei miei piani Oh 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 monti si può andare, andare, sulla scia di animali di là del temporale, e qualche volta si vede una luce laggiù, qualcuno briga, domani. Come l'aquila che vola libera tra il cielo e il sassi, siamo sempre diversi, siamo sempre gli stessi, hai fatto il massimo, il massimo non è bastato, e non sapevi il piano. Ander adesso che hai imparato, non bastano le lacrime per trovare un vaccino, eccoci qua, gente è appennino, aumentano di numero le mascherine, una frazione di secondo sembra già la fine, è la tua terra, la tua vita da ricostruire, tra 20 amiche al tuo bar, prima di tutto la famiglia, ti danno le tue manche che toga e terraria. Signore e signori, non siamo così soli, siamo così soli, non siamo così soli, non siamo a fare castellinaria, non siamo così soli, a stare nere in Italia, non siamo così soli, a fare castellinaria, non siamo così soli, sulla stessa marca, non siamo così soli, a fare castellinaria, non siamo così soli, a immaginare un nuovo giorno in Italia. Tra i muovoli e i monti si può andare, andare, sulle chiacchie animali di la temporale. E tutti i tempi di cui si vede una luce laggiù e qualcuno grida domani. No siamo così soli, 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 no siamo così soli. Domani è già qui, domani è già qui. Domani. Ma domani, domani, domani lo so, lo so. Che si passa ai confini E di nuovo la vita Sembra fatta per te E comincia domani Tra il cielo e l'altaro Si può fare e rifare Un po' di fortuna Si può dimenticare E di nuovo la vita Sembra fatta per te E comincia domani Domani, domani Domani lo so Lo so che si passa ai confini E di nuovo la vita Sembra fatta per te E comincia domani Domani è già qui 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 Elettrotaro Fornovo Un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via nazionale 127 Fornavotaro, telefono 0525 2590. Morano Leggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornavotaro per informazioni www.moranoleggi.com Quali sono i numeri del vostro reparto? Io sono arrivato al Santa Maria di Borgotaro dal primo di marzo del 2017. Sono passati praticamente 18 mesi. Devo dire che dal mio arrivo ad oggi c'è stato un trend di continua crescita dell'attività. L'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con un aumento del 10% dell'attività chirurgica. E quest'anno il trend è rimasto costante, in costante crescita. E nell'attività dei primi sei mesi, anche quest'anno, abbiamo registrato un'ulteriore crescita del 10%. Quali gli interventi che effettuate più spesso? Gli interventi più frequenti sono ovviamente gli interventi legati alla patologia della parete addominale, alla patologia della colecisti, ma in realtà abbiamo affrontato tutti i tipi di interventi legati alla chirurgia generale, anche facendo interventi che non vengono fatti neanche in altre strutture di tutta la provincia. Quali sono gli interventi su cui siete più bravi? Gli interventi su cui siamo più bravi, gli interventi che facciamo più frequentemente sono gli interventi di chirurgia laparoscopica, per la quale abbiamo ricevuto anche la certificazione da parte della COI come centro di addestramento regionale. E questo ci fa particolarmente piacere perché certifica la nostra professionalità. Gli interventi di chirurgia laparoscopica che noi facciamo spaziano dalla patologia benigna alla patologia maligna. Facciamo più frequentemente i tumori del colon e del retto in laparoscopia, ma affrontiamo anche in laparoscopia la chirurgia, ad esempio, della via biliare principale. Nei casi in cui l'endoscopista non riesce a bonificare la calcolosi della via biliare principale, abbiamo fatto qui a Borgotaro quattro interventi di questo genere che non vengono effettuati né all'ospedale di Fidenza né all'ospedale di Parma. Inoltre abbiamo effettuato anche un caso di chirurgia laparoscopica di un tumore del pancreas, della coda del pancreas con preservazione della milza, che devo dire, credo che sia stato il primo in assoluto per la provincia di Parma, per Parma e provincia. Fare attività chirurgiche in montagna avrà ovviamente delle difficoltà e delle opportunità. Quali difficoltà e quali opportunità la gestione di questo reparto in un territorio così lontano da tutti gli altri ospedali? Le difficoltà sono ovviamente quelle legate al territorio. Purtroppo, lo sappiamo, è una zona che da decenni sta perdendo popolazione. Quindi i problemi correlati all'ospedale sono correlati al fatto che il bacino d'utenza progressivamente si sta impoverendo perché progressivamente si sta impoverendo tutto il territorio, perché la popolazione migra in altre zone. E questo è un po' il problema di mantenere l'attività. Per questo è fondamentale che il nostro reparto sia attrattivo verso le province vicine, oltre che per il nostro territorio, e per tutta la provincia di Parma. Quali i numeri delle persone che vengono fuori rispetto al territorio dell'ospedale di Borgotaro? Devo dire che la percentuale di pazienti che vengono da province esterne e anche fuori regione è superiore, è intorno al 15%, ma in questo non sono conteggiati ovviamente quelli che vengono da Parma città o anche dalla bassa parmense. Quindi devo dire che io credo che circa la metà dei nostri pazienti provenga non dal territorio delle valli. E questo è un problema che si è creato poi anche con il punto nascita. Molte delle persone del territorio andavano a partorire fuori. Capita anche per la chirurgia o scelgono quasi tutti la chirurgia? E mentre qualcuno capita che vada degli abitanti? Io devo dire che la prima risposta a queste situazioni è quella di offrire come reparto una chirurgia che si avvicini all'eccellenza. Per cui chi viene da noi ha la garanzia che noi facciamo quello che si fa in qualsiasi reparto d'eccellenza d'Italia e anche fuori d'Italia. Come dicevo prima, quello che fa il centro di chirurgia del pancreas di Verona noi lo possiamo fare. Quello che fanno i migliori centri di chirurgia laparoscopica italiana noi siamo in grado di farlo. Sia per quello che riguarda la chirurgia oncologica, cioè i tumori maligni del colon del retto, dello stomaco, sia per quello che riguarda la patologia benigna come la patologia che riguarda l'ernia iatale, le ernie diaframmatiche, sulla quale abbiamo avuto anche pazienti venuti da altre strutture molto più prestigiose. Ad esempio abbiamo rioperato pazienti che provenivano dall'ospedale di La Spezia, dall'ospedale di Pisa e che sono venuti alla fine a farsi rioperare da noi per problematiche in sorte dopo l'intervento. Quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi dell'attività che stiamo facendo. Grazie